scheda 5 gli anni 50 la nascita della comunità economica europea il 9 maggio 1950 robert schumann l'allora ministro degli esteri francese rilascia una dichiarazione che dà origine al processo di integrazione europea poiché questa data segna la nascita dell'europa unita il 9 maggio di ogni anno si celebra la giornata dell'europa ecco un importante passaggio della dichiarazione di schumann la pace mondiale non potrebbe essere salvaguardata senza iniziative creative all'altezza dei pericoli che ci minacciano l'europa non può farsi in una sola volta ne sarà costruita tutta insieme essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto il 18 aprile 1951 a parigi nasce la comunità europea del carbone e dell'acciaio cieca affermare il trattato sono sei paesi belgio francia germania italia lussemburgo e paesi bassi l'obiettivo è la gestione in comune delle rispettive industrie carbosiderurgiche in tal modo nessuno stato avrebbe potuto fabbricare armi proprie da rivolgere contro gli altri come è avvenuto in passato si tratta di un processo fondamentale per garantire la pace fra i vincitori e i vinti della seconda guerra mondiale associandoli e inducendoli a cooperare in base al principio dell'uguaglianza con il successivo trattato di roma del 25 marzo 1957 i sei stati membri decidono di dar vita ad una comunità economica europea cioè l'obiettivo è di creare un unico mercato comprendente tutta una serie di beni e servizi in basilicata nel frattempo questi sono anni di grande povertà e di emigrazione per le genti lucane dopo il 1950 una serie di lotte con tanto di arresti e persecuzioni morti e feriti portò alla riforma fondiaria i latifondi furono in parte frantumati e piccoli pezzi di terra assegnati alle famiglie dei contadini chi lavorava ai campi poteva comprare le attrezzature fatto straordinario non previsto prima dalle norme esistenti il profilo delle campagne meridionali mutò si coltivava ogni pizzolla ogni rivolo d'acqua veniva raccolto e utilizzato per irrigare le scuole elementari all'epoca erano pluriclassi che raccoglievano ragazzi e bambini nell'arco a volte di qualche decina di chilometri